A fine del campionato il Como è quindi matematicamente promosso in Serie A, campionato dal quale era assente da quattro anni. È stata una volata vincente dalla Serie C, così come aveva già fatto l'Udinese. Il merito è senza dubbio di Marchioro, che ha saputo allestire un ottimo collettivo con spiccate individualità in avanti, come Cavagnetto e Nicoletti. La Pistoiese, con il pareggio ottenuto oggi in casa dei Lariani, ha fatto un passo avanti in classifica generale, così come ha fatto il Brescia, che ha superato nettamente il Monza.